ultimamente sto rileggendo diversi romanzi dei tempi d'oro della fantascienza degli anni 50 60 70 romanzi che in italia sono arrivati soprattutto grazie a urania e che io ho scoperto appunto grazie a quella collana urania mondadori da edicola li ho scoperti tanto per fare un po di chiacchiere personali nelle bancarelle dell'ousato non so se avete presente e quando andavo al mare ed ero un ragazzino 13 14 anni perdevo parte del mio tempo posto che giocare a racchettoni a pallavolo beach volley che il tempo non si chiamava beach volley ma appunto pallavolo alla spiaggia perdevo i tempi bazzicando i viali dei rimini che erano pieni di queste bancarelle di libri fumetti usati e i vecchi titoli urania erano i miei acquisti preferiti e grazie appunto a questo a queste bancarelle a questo mercatino delle pulci di rimini e solo successivamente in tempi più maturi di milano ho scoperto dei titoli dei titoli molto belli e solo col tempo sono venuto a sapere che si trattava di classici della letteratura del fantastico in particolare mi sono accorto ma non è stata una grande scoperta che gran parte di questi titoli appartengono al genere della fantascienza distopica fantascienza distopica che in quegli anni era prevalentemente a uso e consumo di scrittori inglesi britannici comunque gallesi scozzesi insomma nelle isole del regno unito c'era una gran un gran fermento di attività riguardante la scrittura della fantascienza distopica e allora ho deciso di fare un video sulla distopia perché appunto rileggendo questi romanzi mi sono accorto di come è cambiato il genere nel giro di 50 anni 40 anni insomma nel giro di pochi decenni la distopia intanto facciamo presente per chi non lo sapesse viene chiamata anche anti utopia ed è quella fantascienza che ipotizza una società futura in cui gli aspetti negativi superano di gran lunga quelli positivi appunto il contrario dell'utopia ed è un genere letterario quindi con forti aspetti pessimisti che spesso serve da monito per quello da specchio deformante anzi di quella che è il nostro presente la nostra realtà e c'è da dire che per molti molti anni la distopia non è stato affatto un genere per ragazzi ma un genere per adulti e anche adulti abbastanza informati anche se in parte mi smentisco da solo immediatamente perché ho appena detto precedentemente detto che io l'ho scoperta da ragazzo ma forse ho apprezzato maggiormente questi romanzi rileggendoli dopo i 20 25 anni chiusa altra parentesi personale titoli come 1984 il mondo nuovo fahrenheit 451 sono rappresentano perfettamente il genere distopico ma ce ne sono molti cercherò magari di linkarvene se vi interessa qualcuno nella didascaria del video e per esempio c'è morte dell'erba bellissimo romanzo che mischia distopia e fantascienza catastrofica che ho recensito nella mia rubrica domenicale su instagram che rubrica che vi consiglio di seguire seguitemi su instagram anche in questo caso trovate il link nella descrizione del video insomma citando questi tre colossi tre pietre migliari della distopia ho inquadrato il genere più che ogni altra descrizione tali romanzi erano caratterizzati da un certo nichilismo e appunto erano un monito contro la decadenza morale emotiva economica e chi più ne metta della società come ho detto erano anche degli specchi deformanti di quella che era il presente reale sociale di allora le nuove distopie sono invece completamente diverse sono orientate innanzitutto a un pubblico molto giovane dai 15 ai 20 anni direi forse anche dai 14 ai 18 insomma a pubblico davvero giovane ed è un genere che vende molto bene vende molto bene perché come abbiamo visto anche dai dati istat e forse ve ne ho già parlato se no ve ne parlerò in un altro video i lettori giovani sono una buona fetta dei lottori totali italiani che potrebbe essere il che è un buon segnale e il genere distopico insieme al romance è uno dei quelli che interessano più i ragazzi e le ragazze soprattutto perché le lettrici sono molto più numerosi dei lettori anche tra i giovanissimi e però questo genere distopico è appunto molto diverso dalla distopia che ho conosciuto io quando ero io un ragazzino saghe come hunger games maze runner mettono in realtà in contrapposizione a una società gerontocratica una società anziana e conservatrice e dal taglio dittatoriale o comunque da un taglio estremamente conformista contro dei giovani giovani eroi intenzionati a cambiare lo status delle cose quindi abbiamo le differenze si vedono la la contrapposizione non è più tra una società senza età che opprime un popolo senza età nel senso che i due estremi società che opprime e società oppressa hanno tutto un range di età che va dai giovanissimi agli anziani Nella nuova distopia la contrapposizione è fortemente generazionale ovvero appunto gli anziani che stanno al potere opprimono i giovani che vogliono cambiare le cose e riportare una certa equità o comunque trovare la loro strada che questo forse questo individualismo è ancora più marcato come obiettivo degli eroi del genere distopico odierno questo genere è quindi diventato una metafora dell'età della ribellione l'età in cui appunto il ragazzino il 14enne il 18enne il 20enne cerca la propria identità e facendolo si scontra col sistema conformista che di solito è la famiglia e che invece in questi romanzi è appunto uno stato, un governo, un dittatore che comunque è spesso metafora della famiglia stessa una volta tale ribellione aveva un significato infatti molto più politico e la distopia serviva anche per dare un segnale, per dare un avvertimento a un sistema degenerato di capitalismo di solito anche se esistono anche distopie che mettono in guardia contro il socialismo, il comunismo insomma comunque era un genere di letteratura molto politica o molto fantapolitica mentre oggi appunto le distopie nuove che piacciono ai ragazzini sono una metafora di ribellione generazionale e di solito gli eroi che nel genere distopico dei vecchi tempi non erano nemmeno eroi, erano anti-eroi o meglio ancora erano dei poveracci, della gente semplice che si trovava coinvolta in situazioni gravi molto più grandi di loro, non riuscivano a ottenere nulla se non forse forse la salvezza personale in un mondo che restava comunque distopico mentre nelle nuove distopie c'è questo concetto del giovane eroe che è un po' predestinato un po' come succede nel fantasy e che spesso cerca e riesce nel cambiare qualcosa e a volte nel sostituirsi in parte o totalmente al potere gerontocratico che riesce ad abbattere personalmente preferisco ovviamente le vecchie distopie perché sono anche un amante di politica e fantapolitica e mi piacciono molto le vecchie distopie come metafora della società che è e che potrebbe diventare le nuove distopie sono fuori dal mio range d'età tuttavia ho letto qualcosa, ho letto Maze Runner, ho letto una serie italiana di cui ora non ricordo il nome della saga ma descrivano società divisa in sezioni diciamo che si rifanno alla commedia dantesca Inferno, Purgatorio e Paradiso, Inferno per i poveracci, la plebe e il popolino e Paradiso per appunto i gerarchi di questa società fortemente a caste insomma letture interessanti ma caratterizzate da questo sistema da questa metafora di contrapposizione dell'età proseguirò nella rilettura e nel proporvi dei titoli intanto mi è piaciuto l'idea di farvi questo quadro generale di cos'è la distopia cos'è ancora perché esiste ancora una distopia adulta ma in Italia gli editori sembrano essersene un po' scordati raramente propongono qualcosa di questo genere e cos'è invece la nuova distopia che in tutte le librerie italiane in tutte le classifiche, per esempio quella di Amazon va per la maggiore e abbonda di titoli spero di essere stato esaustivo in questi dieci minuti scarsi di video se avete domande chiedetemi via social se avete letto qualche titolo interessante anche di entrambi i sottogeneri vecchio e nuovo di distopia segnalatemeli e prenderò ben volentieri appunti alla prossima